Vincere. Vincere e salvarsi. Basta. Non c'è altro a cui pensare in questo momento. Siamo di fronte a due partite che decidono non solo una stagione ma il futuro di ognuno di noi. E noi intendo giocatori, città, presidente, direttore, tutti. Quindi c'è poco da dire, c'è da andare in campo e da fare una grande partita. Penso che il Teramo non debba assolutamente pensare ai due risultati ma a chiudere il prima possibile la pratica e cercando di dimostrare sul campo il nostro valore. Mi auguro che il Teramo sia quello delle ultime giornate. Al di là, poi, se voglia dire, risultati magari potevano essere meglio, però se andiamo a guardare abbiamo sempre avuto le nostre occasioni per vincere le partite e abbiamo subito meno. Quindi sarebbe ottimo fare un tipo di prestazione domenica come abbiamo fatto le ultime. E forse anche qualcosa di più perché sicuramente il play-out è un campionato a parte. Loro è una squadra, da quello che mi ricordo, che si difende molto bene. Dietro ha due ottimi difensori. È una squadra compatta, per sfruttare le ripartenze, ha gli esterni forti. Comunque è una squadra che in campionato ci ha portato via quattro punti. Quindi è una squadra da non sottovalutare ma allo stesso tempo da non aver paura.